Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 26 luglio. Il tema fondamentale della giornata su tutti i giornali ovviamente è la morte di un giovane carabinile di 35 anni, il vicebrigadiere Mario Rega. Il tema fondamentale è che su questa vicenda, che sarebbe una vicenda di tremenda cronaca, tra l'altro dai confini ancora non del tutto chiari, si è divisa più che la politica, perché la politica mi è sembrata abbastanza unita, tranne una dichiarazione di Saviano imbarazzante, così come piuttosto imbarazzanti alcune dichiarazioni avventate dai politici, nel senso che ovviamente tutti provano, anzi ovviamente fino a un certo punto, a portare l'acqua al loro mulino. Questa è la tesi fondamentale della stampa, con un fondo di Mattia Feltri che ha detto fate tutti i fenomeni, pensavate fossero marocchini, poi ci siete rimasti mali perché sono due americani. Dei commenti arriveremo tra poco, ma prima vi voglio semplicemente dire come oggi, e sono passate molte ore da quel drammatico omicidio, si sappiano ancora pochissime cose. Si sa che forse un italiano, ma non è sicuro, a Piazza Mastai, a Trastevere e a Roma, questo italiano 45enne avrebbe avuto un contatto con due americani di 20-19 anni, che sono in un albergo cosiddetto lussuoso, in realtà è un 4 stelle, comunque che costa 200 euro a notte, in Prati. Hanno avuto un contatto con questi due americani. Secondo le ricostruzioni, questo italiano ha avuto contatti con gli americani perché li avrebbe fatto da intermediario per alcuni pusher di droga. Questi pusher di droga nordafricani li avrebbero fornito a questi due americani, invece che la droga un'aspirina. Gli americani arrabbiati cercano i nordafricani che gli hanno venduto la droga a Trastevere, non la trovano più perché droga non era, e vanno dal signore con lo zainetto che aveva fatto da intermediario con i nordafricani. Se non che il signore con lo zainetto fa finta di nulla, allora gli americani rubano lo zainetto a questo signore, vanno nel loro albergo, sperando forse di trovare nello zainetto droga oppure per ritorsione nei confronti di questo che non gli aveva procurato la droga, questo signore richiama il suo cellulare che è nello zainetto rubato dagli americani, gli americani rispondono al cellulare e dicono se ti vuoi indietro lo zainetto ci devi dare la droga e 100 euro. Quindi fissano un appuntamento per le tre di notte. Ma la cosa incredibile da questa storia, che io non riesco proprio a capire, questo signore che aveva presentato i pusher agli americani e che aveva uno zainetto che non valeva nulla all'interno, è un cellulare sì che potrà valere qualche cosa, cosa fa? Accetta di vedersi con quelli che gli avevano rubato lo zainetto per dargli 100 euro, ma chiama i carabinieri per far sì che gli sia fatta una trappola ai due americani. Insomma, già un pusher o un amico dei pusher che chiama il 112 a me sembra una cosa incredibile, ma così è. In più, l'altra cosa incredibile è che la notte si presentano, secondo le ricostruzioni, questi due carabinieri in borghese invece che questo signore che voleva indietro lo zainetto. e questi due americani prendono e accoltellano con otto coltellate uno di questi due vicebrigadieri, purtroppo muore, l'altro lascia andare l'altra persona e io voglio dire, nella morte, nella tragedia e nell'idea di questo ragazzo di 35 anni che tra l'altro è descritto come una persona meravigliosa, che si occupava delle persone più deboli, Franco Becchis oggi dice lo conosceva, era una persona straordinaria, ma io una cosa mi chiedo, ma quando a un carabiniere tu lo accoltelli e solo in due carabiniere non ci sono delle pattuglie vicine, non c'è un'organizzazione nel fare questo incontro con i due americani, non ci sono le pistole, non si spara, uno tira fuori un coltello e l'altro non spara, io sparo a casa mia e in questo arriviamo e andiamo finendo la ricostruzione ai commenti. L'unico interessante commento di oggi, perché non è politico o è politico in una certa misura il più politico di tutti, è quello di Italia Oggi, sono venti righe che scrive Magnaschi, dice ma scusatemi, ma per quale motivo non hanno sparato? Non hanno sparato perché questo è il paese in cui i poliziotti non possono sparare, in cui i poliziotti si reagiscono, vengono processati, questo è un paese in cui si è sostanzialmente, dice come si chiama Italia Oggi, si è tolta alla polizia perché si sono colpevolizzati i poliziotti, tesi quindi l'Italia Oggi, poi dopo gli altri giornali si interrogano tutti sulla questione politica, la destra che pensava fossero dei marocchini e quindi diceva bastardi, devo dire io questa cosa che adesso si dice tutti bastardi, io la trovo una cosa anche brutta, cioè chi se ne frega bastardi o quell'altro dovete marcire in galera, io le trovo, non so come dire, non c'è bisogno di dirle, poi dopo Mattia Feltri se la prende con lo stesso Berlusconi che dice spero che vengano puniti severamente, adesso tra questo, tra dire bastardi, pena di morte eccetera e poter dire spero che vengano puniti severamente, secondo me ci sta, banalmente un po' sono tutti quanti d'accordo che si è pulito severamente un ragazzo di 20 anni che prende a coltellate un carabiniere, secondo quello che è la giustizia ovviamente, non è che severamente che vuol dire, è un auspicio, almeno possiamo averlo un auspicio, che un americano che viene a casa nostra e che ammazza un carabiniere sia punito severamente o anche questo è fuori, come possiamo dire, dall'etichetta istituzionale, ma non esageriamo ragazzi perché è esattamente la stessa esagerazione per cui i poliziotti se reagiscono sono sempre colpevolizzati, è quel filone là, è quel filone per cui ieri Saviano, quel genio totale di Saviano, mentre la destra attaccava, diceva, e lo nota oggi Sallusti sul giornale, quel genio totale di Saviano invece di stare zitto, come forse avrebbero dovuto fare i politici, avremmo dovuto fare noi, avremmo dovuto fare forse tutti quanti, invece questo mondo dei social di cui i giornalisti fanno finta, sono distrutti dai social, ma non fanno altro che stare su Twitter a dire cazzate, a guardare le cazzate degli altri e poi a commentarle il giorno dopo sui giornali e dire ieri sui social, non li guardate i social, Twitter è una minchiata colossale, lo sa anche Domine Dio, ma comunque su Facebook Saviano dice i criminali politici complici dell'odio, cioè sostanzialmente se la prende con quei politici che subito ieri erano saltate da zannare lo straniero, straniero che oggi è difeso da Mattia Feltri dicendo le carceri non ci sono reati stranieri, sono diminuiti gli stranieri in carcere, forse Mattia non sono in carcere, ma fuori dai carceri in genere la microcriminalità purtroppo è straniera in questo paese, lo dicono tutte le ricerche, forse non vanno in carcere, non finiscono in carcere e questo è il motivo per cui la gente, soprattutto quella dei cieti popolari è un po' arrabbiata, ma comunque facciamo finta che hai ragione tu e che non ci sono stranieri che fanno male, ma il punto fondamentale è che non mi sembra che quando muore un carabiniere Saviano si alza e su Facebook dice e scrive che qui è generato dall'odio, i generatori dell'odio, i criminali politici, adesso non esageriamo, i politici fanno il loro mestiere talvolta sporco, orribile perché io bastardo, chi se ne frega di dire basta sta moda, bastardo, ma che vuol dire bastardo, ma che vuol dire? Sono figli di due persone che dovevano andare in galera, devono subire le pene, però comunque oggi tutti quanti, tra l'altro un'altra cosa che mi diverte è che tutti questi, compreso il mio amico Mattia, tanto garantista nei confronti degli stranieri e tanto indignati della politica che si getta a capofitto sopra questa tragedia, poi oggi un politico Armando Siri scrive una lettera in cui dice alla stampa di Feltri, dove si era appena presa con i politici e loro sul giustizialismo, scrive Siri alla stampa, guardate che io non ho mai avuto a che fare con questo Arata, come hanno detto anche nelle dichiarazioni dell'altro giorno, questi 30 mila Euro io non li ho mai, neanche ne sapevo, non avevo la più pallida idea che ci fossero, erano un pettegolezzo tra padre e figlio che avevano fatto in macchina, intercettato dalla Guardia di Finanza e che pensano che io sia colpevole per un loro pettegolezzo, insomma quello che tutti noi avevamo capito, forse non la stampa e la Repubblica e tutti i giornali che hanno fatto del caso Siri come del caso Moscopoli, la specie di tangentopoli della Lega, ma il punto fondamentale, tu fai il garantista, prendi il pezzo Siri che ti scrive questa lettera, cercando disperatamente dopo mesi di silenzio, mandato a fanculo da tutti quanti e sotto cosa fai? L'ischiesta dell'Espresso spunta un altro milione di Euro Siri, che finirà nella minchiata anche quella, cioè San Marino ha prestato un milione di Euro, carte che non ci sono, si evocano tutte, il solito complottismo per cui Siri oggi, ancora prima di essere indagato e di essere condannato, essere rinviato a giudizio, da una parte scrive una lettera per dicendo ragazzi 30 mila e dall'altra gli sbatte la stampa, un bel pezzo, bello, di sputtanamento, sì, forse ti hanno assolto su quei 30 mila, ma tu sei un malfattore perché hai fatto la bancarotta fraudolente e patteggiato, che non è un'ammissione di colpevolezza, perché tu a San Marino c'hai questi soldi e tu sei molto chiacchierato, questo è il clima, i giornalisti possono sputtanare i politici, ma i politici se fanno il loro sporco e orribile mestiere, ripeto, orribile mestiere di evocare bene esemplari, perché non esistono i peresemplari, i peresemplari sono quelle previste dal codice, allora a quel punto quello fanno i politici cattivoni che ovviamente sono soltanto quelli della Lega e della destra, perché poi dopo quando c'è, oggi c'è sui giornali, la giovane del PD che dopo che Paolo Giordano intervista Gerry Calacche dice sai, tra gli attori essere di sinistra un po' aiuta, quella gli dice delle cose incredibili, però quelli non valgono, non valgono, è sempre quella roba lì, quindi direi che oggi tutti i giornali sono concentrati su questa storia di cui nessuno ancora capisce i contorni, se non un contorno, il poliziotto se io vedo, secondo me si spara, si spara, il poliziotto, il carabinè spara e c'è ragione, ieri Beckis e poi insomma non mi fate parlare di questa roba perché diventa sgradevole nel giorno in cui è morta una persona per benissimo come questo giovane 35 anni che si era sposato da 45 giorni, è una tragedia immane. Dazi americani, sole 24 ore, andiamo sull'economia, valgono 4,5 miliardi, quel cattivo di Trump fa male a fare i Dazi e questo qualsiasi liberale, qualsiasi economista, qualsiasi lettore di Bastia sa che i Dazi fanno male, sia chi li impone, sia chi li riceve e per l'Italia valgono 4,5 miliardi, in piccolo c'è scritto invece quanto vale quella cosa che tutti noi europei adoriamo, cioè le sanzioni nei confronti della Russia, che altro non sono se non Dazi messi per motivi politici, anche magari corretti visto le invasioni russe contro gli accordi internazionali, le sanzioni russe hanno fatto sì che nel 2013 fossero 15 miliardi di esportazioni nei confronti della Russia e sono scese a 7 miliardi, quindi 8 miliardi, il doppio degli eventuali Dazi di Trump sono le sanzioni dell'Italia, verso l'Italia, verso la Russia, sono salite 11 miliardi perché la Russia, cosa che un po' non dicono negli ultimi due anni, è ripreso a crescere. Standard & Poor's, ultima notizia, rischio Grecia per l'Italia e con questo bel auspicio di questi fenomeni delle agenzie di rating, io vi saluto e vi do appuntamento a domenica, domani con la zuppa di porro e al sito nicolaporro.it dove ci sono tanti pezzi interessanti, compresa la piccola cronaca del mio viaggio tra queste stupende foreste della Thailandia. A dopo, ciao!